we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi tutte le novità delle ultime 24 ore di fortnite le trovate racchiuse in questi pochi minuti di video parleremo della nuova patch la 14.60 che finalmente ha cominciato a far capire quando verrà rilasciata vedremo comunque anche delle novità per quanto riguarda il galactus il nuovo bundle last love quindi quello del joker con una curiosità davvero interessante e tanti tanti leaks prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi si tratta proprio della patch 14.60 è stata aggiunta agli staging server come vedete nell'immagine alla mia sinistra alla vostra sinistra in poche parole ragazzi quando una patch viene aggiunta agli staging server vuol dire che la settimana successiva viene pubblicata ufficialmente ed è giusto è in linea con quello che è la tempistica della chiusura di questa season perché settimana prossima verrà rilasciato l'aggiornamento poi avremo un buco di due settimane dove nella seconda di queste due settimane se tutto va come dovrebbe andare arriverà la stagione numero 5 di questo capitolo 2 il che vuol dire che arriveremo a metà del capitolo 2 ovviamente nella patch 14.60 verranno inseriti tutti gli elementi relativi all'evento del galactus quindi avremo un sacco di leaks verranno aggiunte le skin verrà aggiunto probabilmente anche il galactus e forse anche qualche piccolo spoiler per quanto riguarda la prossima season quindi preparatevi perché tra qualche giorno vedremo tutti gli leaks assieme e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché abbiamo anche delle novità per quanto riguarda un punto di vista diverso del galactus oramai è lì ragazzi oramai è arrivato ogni giorno si avvicina sempre di più voglio farvi vedere questo spezzone di video che ci mostra proprio il galactus in cielo ovviamente è l'unica cosa che possiamo vedere la skin in sé non è ancora uscita quindi questa è una ripresa dai file di gioco di quello che noi vediamo nel cielo e devo dire che è molto molto diciamo incredibile quello che stiamo vedendo perché il galactus questa è un'immagine di ieri e questa è l'immagine dalla stessa inquadratura il galactus ragazzi si avvicina in una maniera davvero incredibile ed è veramente enorme quindi aspettiamoci davvero di poterlo di doverlo combattere e di vedere di riuscire a portarci a casa la vittoria nel nexus war andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché come ieri vi avevo anticipato il bundle di joker in realtà non avevo fatto vedere due cose la numero uno ragazzi è il trailer guardiamocelo un attimo assieme come vedete si va direttamente a pantano palpitante non posso farvi sentire l'audio perché ovviamente sotto copyright ma la cosa che ci salta di più all'occhio è questo massiccio utilizzo del c4 io credo che non sia una coincidenza il fatto di aver voluto introdurre nel trailer del bundle il c4 e potrebbe essere un grandissimo e graditissimo ritorno vi ricordo magari alcuni di voi non lo hanno neanche mai provato in game non so da quanto tempo manca sinceramente ma parecchio il c4 è appunto l'esplosivo che si può utilizzare attaccandolo fisicamente a qualsiasi cosa che si possa distruggere e una volta allontanati abbiamo la possibilità di farlo esplodere a distanza c'è stato il periodo dove tutti giocavano con c4 e si facevano le imboscate quindi lo mettevi magari dentro una casa e ti mettevi a fare sneaky sneaky oppure semplicemente lo si utilizzava per tirare giù le mega strutture nemiche quindi tanta roba anche il possibile ritorno del c4 andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché forse non lo avete ancora visto ieri si è conclusa comunque la terza coppa marvel quindi la coppa di black widow che si poteva giocare in coppie spero che abbiate totalizzato i punti necessari per entrare di diritto tra le persone che hanno ricevuto il bundle in anticipo rispetto all'uscita dello shop dovrebbe essere comunque tra pochi giorni la curiosità che vi ho detto ieri era che la skin di black widow che già avevamo non era altro che un cosplay quindi questo è quello che ha dichiarato fortnite quindi la seconda line alto immagine quella appunto della skin che già avevamo non è quello ufficiale quello ufficiale è l'ultima in basso a destra e per quelli che non l'avessero ancora visto ecco il l'outfit nel file di gioco quindi in game come vedete è un bundle completo che comprende la versione snow di black widow il suo backpack che sinceramente non si nota neanche da queste immagini il doppio piccone che è molto simile a quello che in realtà già abbiamo e per concludere tutto il set arriverà anche il deltaplano leggermente diverso diciamo che ci può anche stare carino almeno non si sono ripetuti con quello che già avevamo insomma ragazzi le news anche per oggi sono terminate non ce ne sono molti in questi giorni perché bisogna aspettare la patch ma io vi ringrazio comunque per avere guardato questo video mi raccomando ragazzi aiutatemi con l'algoritmo di youtube e per farlo basta solo che lasciate un bel pollicione in su vi mando un abbraccio e vi ricordo che noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao 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 ciao